E buongiorno dottori, dottoresse, bentornati, con questo microfonino tutto in faccia, come meglio o peggio, non lo so, aspetto feedback qua nei commenti, qua nella chat. Allora, visto che ieri mi avete detto, sì Marco, preferiamo più video ma più brevi, va contento, va contento, sono qua apposta per soddisfare le vostre esigenze. E quindi, visto che questa mattina eravamo in live sulla piattaforma Viola per tre ore e mezza di studio, ebbene ci siamo messi a studiare un po' di cose sia riguardante l'argomento di oggi, ovviamente che adesso vi vado a parlare, Ma fatemi sapere, e ve lo dico già all'inizio, se volete guardarvi anche tutta la spiegazione sui nuovi layer 2 di bitcoin, che potrebbero rappresentare un'occasione per speculare prima che arrivi la grande massa. Quindi mi sono studiato un po' tutto quello che sta accadendo, BRC20, Rune, Stax, insomma, se volete un bel approfondimento, spolliciate, arriviamo almeno a 150 like, di meno io non li accetto, anche se questo video in particolare non fregherà nessuno, però c'è bisogno di supporto, c'è bisogno di supporto, e quindi nel caso voi supportatemi che io mi adopererò per fare i video anche su quegli argomenti. Oggi, come leggete probabilmente dal titolo e dalla copertina, andiamo a parlare di Wasabi. Che cos'è Wasabi Wallet? Per chi non lo conosce è un normalissimo wallet bitcoin sul computer, quindi desktop wallet, funziona sul vostro laptop, che vi alzerei ma spacco tutto, quindi lo lasciamo qua, che io, insomma, Costanza Marco, vi ha anche fatto una guida a riguardo. Perché? Perché è l'unico wallet che vi permette di fare coin join in maniera iper pratica e semplice. Trovate qua sotto in descrizione, se non la trovate, non vi preoccupate, andate su marcocostanza.it slash coin join e trovate la mia guida, non completa, di più, su come fare coin join attraverso Wasabi. Quindi il coin join che cos'è? È una pratica per la quale voi prendete i vostri bitcoin, li mixate e fate perdere le vostre tracce. Avete dei bitcoin KYC che volete nascondere? Non c'è problema, il coin join è lì per voi. E quindi se volete rimanere più sicuri, anonimi e privati, che nessuno, insomma, si metta tra voi e i vostri indirizzi pubblici, coin join è la pratica che vi serve per nascondere tutto quello che avete fatto anche in passato. Ma adesso torniamo a noi perché ci sono degli aggiornamenti interessanti su un wallet, quello di Wasabi, che io vi straconsiglio a prescindere. Quindi che voi vogliate o non vogliate fare il coin join, comunque Wasabi è un desktop wallet, ripeto, per il vostro computer, ovviamente bitcoin only, veramente, ma veramente interessante ed efficiente. Perché c'è un sacco di pratiche, ad esempio funziona sotto rete TOR, quindi nessuno comunque riesce a farsi i fatti vostri, ha delle utilities che vi possono aiutare ad aumentare comunque la privacy in linea generale, facendo UTXO selection. Insomma, se siete le prime armi, fidatevi di me, è un wallet bellissimo. Se siete già un po' più schillati, andate pure voi stessi a controllare, ha delle funzioni niente male. E oggi parliamo di alcune funzioni che hanno aggiunto, vedo qua, il 20 di marzo. Perché queste vi possono continuamente aiutare ad ottenere più privacy sui vostri bitcoin. Come leggiamo qua, hanno aggiunto warnings, quindi avvertimenti e suggestion, quindi consigli, suggerimenti. Allora, quello che hanno aggiunto in breve sono queste cose qua, le andiamo a guardare insieme. Allora, la prima cosa è il Transaction Interlinks Label. Cosa vuol dire? Ogni volta che noi da Wasabi inviamo dei bitcoin a qualcuno, Wasabi ci fa mettere un'etichetta, un label, cioè ci fa dire a chi li sta inviando. Ma, cioè, non siamo costretti a mettere il nome vero, è una cosa nostra per capire noi a chi abbiamo inviato quei bitcoin. Io, ad esempio, nei tempi che furono, quando magari da Wasabi inviavo i bitcoin al bitbox02, scrivevo bitbox02 slash 1. Per dire, questa è stata la prima transazione al bitbox. Magari li inviavo al mio amico Giorgio, scrivevo G. Oppure li inviavo a, che ne so, Binance, anche se non l'ho mai fatto, ma diciamo a Binance e magari ci scrivevo Binance. A cosa mi serviva quell'etichetta? A capire poi chi riceveva quei bitcoin, cioè io sapevo che quell'etichetta, chi era il destinatario di quell'etichetta, sapeva chi ero io. Perché? Perché li avevo inviati io. Quei bitcoin non erano privatizzati e anonimi. Benissimo, adesso Wasabi vi avverte. Quando voi state spendendo dei bitcoin che non sono privati o semiprivati, quindi voi avete il vostro calderone con un bitcoin. Ma sappiamo bene che un bitcoin magari è fatto da tantissime UTXO molto più piccole. Quindi io magari voglio inviare 0.1 a te. Se in quello 0.1 che ti sto inviando all'interno di quella UTXO ci sono dei bitcoin non privati e non anonimi, quindi facilmente riconducibile alla mia persona, Wasabi ci avvisa e vi dice guarda che quella persona lì, quindi alla quale tu stai inviando sti bitcoin, che tu hai scritto, che si chiama in questo caso Green, quella persona lì, quell'entità lì, sa che sono tuoi. Quindi se vuoi evitare, io ti consiglio di, vedete qua, coinjoinare di più oppure utilizzare altri UTXO. Insomma, vi dà dei consigli su come dovete operare per evitare che il ricevente sappia chi è il destinatario, ovvero voi. Primissima cosa che hanno aggiunto. Seconda cosa che hanno aggiunto. Quando voi, qualsiasi persona, state spendendo, vedete qua, quindi se voi spendete dei coin, vi ripeto, il portafoglio magari c'è un bitcoin, voi avete coinjonato, ma quando coinjonate non è che tutto il vostro bitcoin è coinjonato, magari solo alcune UTXO sono coinjonate, altre no, lui vi dice, guarda che questa transazione che stai inviando ha al suo interno dei bitcoin senza coinjoin. Ti suggerisco di farla e di aumentare quindi il tuo set di anonimità. Questo è un altro avviso. Poi arriva l'avviso anche su quelli semi private, quindi sia se io totalmente sto inviando bitcoin non coinjonati, sia se io sto inviando una transazione che mette metà e metà, quindi magari io ho una transazione dove un po' sono bitcoin già molto, diciamo, anonimi, gli altri non sono così tanti anonimi, lui mi dice, ehi, guarda che questa transazione non è proprio brutta, però sei a rischio che qualcuno possa risalire a te stesso. Quindi, insomma, di nuovo ci danno degli avvisi per dire tu non devi stare lì a guardarti tu ogni singola UTXO se è anonimo oppure no, sarà direttamente Wasabi ad avvertirti se non sei completamente nell'anonimato e a darti suggerimenti. Consolidamento over 10 coins. Di nuovo, io ti ho appena detto che se tu hai un bitcoin magari hai 10 UTXO da 0.1, quindi 10 per 0.1 ti fanno il tuo bitcoin. A questo punto Wasabi ti avvisa quando tu stai facendo degli invii, perché magari tu di UTXO hai 0.003, 0.4, 0.7, 0.05, insomma hai diversi UTXO, se tu crei una transazione abbastanza grande da dover mettere insieme 10 UTXO, o perché la transazione è grande o perché gli UTXO sono molto molto piccoli, Wasabi di nuovo ti avvisa e ti dice guarda che se tu metti insieme 10 UTXO diverse in una sola transazione è molto facile capire che quelle 10 risalgono tutte la stessa persona e quindi per chi fa chain analysis, è molto più facile risalire a te. Ed ecco quindi che ti arriva un avviso e ti dice a questo punto cerca di cambiare quello che stai inviando, invioli in maniera diversa perché almeno rimani più privato. Poi cosa abbiamo? Transazioni su fondi non confermati. Questa è una info, non è un avvertimento, vi dice solamente guardate, tu ti sei inviato magari da Binance a CoinJoin perché vuoi, non so, da Binance a Wasabi, ti sei inviato dei Bitcoin perché vuoi girarli da qualche altra parte, fai attenzione perché non sono ancora arrivati, almeno non è ancora stato confermato. Tu già vedi il saldo su Wasabi perché io so che stanno arrivando, però non sono ancora arrivati, quindi magari non spenderli perché rischi di spendere molto di più in transaction fee, quindi aspetta un attimo. Questo è quello che vi dicono di base. Qua vi dice se la transazione usa o non usa dei Bitcoin, dei fondi che sono stati coinjoinati oppure no. E quindi vi dice, ehi, aspetta un attimo perché tu hai avviato il CoinJoin, ma quelli che stai usando magari sono ancora dentro al CoinJoin. E quindi se tu mi interrompi la pratica adesso, io faccio un casino, insomma, qua cosa dice? This may cause your transaction to be replaced by the CoinJoin. Quindi, se tu invi una transazione e puoi avviare il CoinJoin, magari i Bitcoin di quella transazione non possono andarci perché stanno finendo nel CoinJoin e quindi è meglio fare una cosa una volta. O Coinjoini o invii la transazione. E lui vi avvisa, appunto, se le cose stanno avvenendo nello stesso momento. E, infine, questa forse è la cosa più interessante, vi avvisa quando la transazione crea dei resti. Come funzionano le transazioni Bitcoin? Se io... È come avere delle banconote. Adesso io qua non ho il portafoglio. Ottimo, l'ho dimenticato in macchina. Ma, se io ho una banconota da 10 euro, non posso strapparne un pezzo se te ne voglio dare 7. Se io devo pagarti 7, ti darò 10 e tu mi dai 3 di resto. Bitcoin funziona uguale. Se io voglio spend... Se io voglio darti 0.7 Bitcoin, ma ce n'ho uno solo intero, te ne dovrò dare uno e tu mi dai 0.3 in cambio. Ma quando io ricevo questi 0.3 e 0.7 vanno a te, è molto facile capire che il pagamento sarà di 0.7 e il resto di 0.3. Adesso, non prendete questo esempio, prendete migliaia di esempi, solitamente il resto è sempre la parte più piccola che torna indietro, quindi che va su un altro indirizzo. Se io posso sapere qual è il resto e qual è il pagante, mi viene anche più facile a quel punto ottenere traccia dei Bitcoin. e quindi di nuovo perdo anonimato. Che cosa fa Wasabi? Vi dice, ascolta un attimo, io per migliorare la tua privacy ti suggerisco di inviare 55 dollari in meno per evitare di utilizzare fondi non privati. Oppure, qua ti posso consigliare di utilizzare addirittura 109 se vuoi utilizzare solamente fondi non privati, oppure per evitare il resto ti posso dire invia 2.6 dollari in meno o 25 dollari in più. Ora, se sto facendo un pagamento ad una persona è normale che diventa difficile dire guarda ti posso pagare meno perché almeno più privacy viene difficile. Sicuramente se le chiedete di pagare di più dubito vi dirà di no, ma questa funzione serve soprattutto per quando io sposto i miei Bitcoin per me stesso. Quindi tutte quelle persone che mi hanno chiesto in passato Marco, ma se io prendo i miei Bitcoin da Relay, visto che tu mi hai detto che con Relay, con il codice Costanza, posso prendere i Bitcoin in maniera non KYC, ma che poi un KYC Lite, e quindi li voglio mettere sul beatbox perché tu mi hai consigliato che con il codice Costanza posso avere anche qui il 5% di sconto e io però li voglio prima coinjoinare. Ma come me li invio dopo non rischio di perdere la privacy che ho accumulato con il coinjoin? Grazie a tutte queste guide, suggerimenti e avvertimenti che vi dà adesso Wasabi, voi siete tranquilli che se la vostra privacy dopo il coinjoin è passata da 0 o da 10 a 100, voi potete mantenerla al 100% perché vi arrivano degli avvisi. Quindi insomma, spero che sia stato tutto chiaro. Era un rapido aggiornamento su uno dei wallet che io considero più interessanti per Bitcoin, sicuramente il desktop wallet migliore per chi vuole fare più privacy anonimato, poi se ho bisogno di altre cose utilizzerò altri wallet, Sparrow, bla bla bla, ma li vedremo in futuro e quindi fatemi sapere sia se volete una guida poi su altri wallet, quindi mi dite Marco, a me piacerebbe vedere come funziona Sparrow, mi piacerebbe vedere come funziona Electrum, mi metto lì e facciamo dei tutorial. Detto questo, signore e signori, io vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere cosa ne pensate di questi aggiornamenti e se anche voi avete mai utilizzato Wasabi e soprattutto ricordatevi di andare sul mio sito marco costanza slash coin join, non ci guadagno niente, è una cosa che vi straconsiglio di fare voi per la vostra sicurezza, privacy e anonimità, leggetevolo, so che è un pochettino lungo, ma al che vada vi guardate il video, dura un'oretta, ma almeno sapete al 101% come utilizzare Bitcoin nel migliore dei modi. Dottori, dottoresse, se avete bisogno di un aiuto più specifico trovate qua sotto il link per andare alle mie consulenze, prima ora scontata del 50%, così che se volete una mano vi posso dare una mano. Una giornata a tutti e a presto. Grazie a tutti.